Grazie a tutti, visto che la Procura di Livorno ha disposto 60 giorni di indagine sulla situazione con le COP che mi vede come imputato e la mancata contribuzione al partito, ci tenevo a spiegarvi cos'è? Con le COP la conoscete, è già tutto documentato, la documentazione al partito penso non la conoscete ve la spiego brevemente, se il partito manda un candidato a ricoprire un incarico istituzionale pubblico una volta raggiunto questo incarico, chi lo raggiunge firma un foglio da statuto nazionale PD e in base al suo reddito annuo, in una percentuale che va dall'8 al 12% circa deve mensilmente versarla a partito per autofinanziamento bene, quindi va a contribuire nelle casse del partito dov'è che già quando ero nel PD ed ho tre ricorsi fatti localmente al PD regionale e al fine al PD nazionale che ad oggi non ha risposto c'ho la mail, c'ho anche le risposte eccetera eccetera e anche fax inviati perché l'ho mandato anche per fax perché il fax legalmente è riconosciuto allora, in pratica al momento quando io mi presentai e faccio un preambolo, non essere in pari con questi pagamenti da statuto interno PD prevede anche l'incandidabilità ad altri ruoli non solo pubblici ma anche di partito quindi, in data della presentazione delle firme necessarie per la candidatura dove io fui candidato alla seteria territoriale PD Livorno molte persone tra cui il sindaco Lorenzo Bacci non erano in regola alla contribuzione e internamente al partito, questo se va bene poi al partito io ho fatto notare che in uno statuto non scritto da me ma dal PD a livello nazionale queste cose erano state infrante e generavano appunto l'incandidabilità di Bacci le ricevute non sono mai state mostrate ci teneva a spiegare dov'è che entra la magistratura la magistratura entra e da sempre cerco di tirarla in causa e mi fa estremo piacere che ora sia la procura ad indagare su ciò perché questi mancati versamenti e sono cifre consistenti mensili che in fondo all'anno sono qualche migliaio di euro a testa solo per un semplice sindaco poi ci sono consiglieri, ci sono gli assessori in tutto il territorio livornese immaginate un po' voi le cifre bene, tutti questi incassi convergono alla federazione PD Livorno tanti non sanno che la federazione PD Livorno ha tre dipendenti diretti non sotto cooperativa, sotto PD durante le primarie dell'elezione del segretario territoriale del 7 di dicembre tre ragazze erano già da tempo in cassa integrazione una cassa integrazione se io che ho un'attività come molti di voi potrebbero avere o hanno per aprirla mi vengono a vedere anche i peli del sedere il tuo sedere c'entra sempre scusate ma è tutto collegato a un sedere il PD, il mio vissuto e quindi niente, dicevo mi vengono a vedere anche i peli del sedere cioè vanno a vedere se tutto il possibile è stato fatto per poi concederla come è giusto bene ora, a dirà che è inconcepibile che un PD che prende già dei soldi pubblici abbia anche dei dipendenti questo va bene, dal lavoro ci mancherebbe però, dov'è che subentra la magistratura? mancano, mancano i solleciti da parte dei tesorieri di partito inerenti a dove sono state candidate queste persone nel dire oh, mi devi portare mille o mi devi portare diecimila venimile a portare come è scomodo per un tesoriere che magari spera di far carriera nel partito oppure vuol mettere assicurare un futuro politico a un parente, un figlio oppure ci ha avuto qualche favore e chiama un sindaco o un assessore o consigliere e dice oh, c'è da portarmi i soldi? la prima cosa che fa il sindaco mi levi l'uda a far i tesoriere che mi rompe i coglioni tutti i giorni perché è da portarli i soldi quindi i solleciti mancano e non sono mai stati inviati però si apre la tassa integrazione soldi pubblici allora chi, tra l'altro poi ce l'ha anche soldi da dargli ed è previsto e firma un foglio che li deve dare ok? che li deve dare nella percentuale indicata da statuto e non da finché non li dà il partito e non apre una cassa integrazione è una cosa anti-etica del codice del PD che viene infranto e quello sono problemi loro ok? quando si apre una cassa integrazione ci sono state queste mancanze per di più con la mancanza dei solleciti che hanno contribuito all'affossamento dei conti del PD di Livorno territoriale di Livorno qui si apre un bel capitolo nero e sarebbe lo stesso PD a livello nazionale a dover fare chiarezza su ciò e a prendere a pedate nel culo si ritorna un'altra volta al culo che c'è da sempre le persone che non erano pari tant'è che il giorno dopo il mio ricorso nazionale al nazionale del PD a Roma Matteo Renzi in persona durante l'assemblea nazionale dice chiaramente chi non è in regola con la contribuzione al partito venga buttato fuori dal partito attualmente non solo sono stati coperti e sono lì e non erano candidabili ma anche nella segreteria del PD di Livorno ci sono persone che non hanno mai pagato un euro nel comune Paolo e Salvetti lo stesso assessori e addirittura non essendo stato in regola il partito non poteva neanche candidare Bacci che ha detto lui pubblicamente davanti a noi internamente che lui ha sempre pagato il 3% perché per lui il 3% è giusto ma non è quello che ha firmato e non è neanche quello che dice il codice interno del PD quindi si ritorna lì il lato che a me interessa non solo etico è quello se la vedano loro se vogliano militare in un partito che permette di infrangere il suo stesso codice facciano pure io non ci sto e me ne sono andato ok però qui si è attinto dai soldi pubblici cassa integrazione oltre la scalata con le coppie eccetera che lì ora sarà curioso andare a vedere in che termini è avvenuto il bando ci stiamo già muovendo oltre la procura ci muoviamo anche noi perché è bene dare più forza e darle anche una mano a venire a capo di questa verità che da tempo mi angoscia mi tormenta e mi ha portato anche a fare il gesto per fare niente quindi faccio questo video per spiegare a chi non sa i cittadini normali i militanti del movimento o i stessi membri del PD che prendono per buono quello che sentono dire senza mai magari nemmeno informarsi bene e da statuto nazionale te che il partito ti ha mandato a ricoprire in carico istituzionale devi devi e quando lo accetti il film in foglio versare al partito queste somme se non le versi non solo non sei ricandidabile ma di sicuro prima di aprire o di attingere soldi pubblici di aprire una casa integrazione quanto meno dei solleciti dovevano essere partiti perché quella non è più una cosa interna del partito ma si attinge dai soldi pubblici grazie per l'attenzione ciao